Pioggia di euro dalla regione campania per le università di 2019, per gli impianti del comune di Pagani che ospiteranno le prossime università di estive del 2019, sono stati finanziati gli interventi infrastrutturali per la sistemazione dello stadio comunale Marcello Torre per un importo di un milione di euro circa. È un traguardo importantissimo questo, ha detto il sindaco Bottone, che ci consente di poter lavorare per un miglioramento reale delle nostre attrezzature, ma soprattutto del Marcello Torre, che è da sempre un nostro fiore all'occhiello. Il Foggia intanto ha riscattato il cartellino del trequartista Francesco Deli, pertanto per la società azzurro stellata c'è altro cash da investire sul mercato. Ore frenetiche in casa Rosso Blu, il mercato tiene banco con il telefono del consulente Martone sempre più incandescente. Tra un sondaggio, una richiesta e un appuntamento da fissare, si cercano quei profili adatti al progetto tattico di Mister Scazzola. Tra questi ci sono, forse meglio dire, c'erano due ottimi calciatori. Si trattava del difensore Alcibiade e dell'attaccante Firenze, entrambi della Paganese nella scorsa stagione. La punta è di proprietà del Crotone, ma dovrebbe restare almeno un altro anno in Serie C. Su entrambi era stato interpellato la gente che non aveva affatto chiuso la porta ai falchetti. Nelle ultime ore però sembra che il Catania abbia accelerato, anche gli atenei avevano da tempo chiesto informazioni, e i due sono sempre più vicini a fare la valigia e trasferirsi in Sicilia, tenendo anche conto degli ingaggi molto elevati che non rispecchiano i parametri della Casertana che le ha fatto mollare e di conseguenza si è tuffata su altri obiettivi. Per il momento invece in casa della Juve Stabia si parla soltanto di cessioni per alleggerire il budget, ma l'iscrizione al campionato di Serie C è salva.